Ancora incidenti su quello che è stato ribattezzato il ponte killer, ovvero il ponte San Panfilo di Sulmona. Un'auto è uscita fuoristrada nel primo pomeriggio finendo contro la rinchiera in legno posta a bordo della carreggiata. Fortunatamente senza conseguenza alcuno per gli occupanti dell'auto, l'antè che non si è reso necessario nemmeno l'intervento sul posto dell'ambulanza nelle cure ospedaliere. Nonostante gli interventi effettuati dal comune, dall'asfalto drenante che poi drenante non sarebbe, stando alcuni rilievi eseguiti a limite di velocità, gli incidenti continuano a verificarsi e il ponte San Panfilo continua a balzare alle cronache. Un tratto di strada insomma da percorrere con particolare ed estrema prudenza da parte degli automobilisti anche se il conto dei sinistri comincia a salire e comincia anche a essere troppo a detta degli stessi utenti della strada.